San Pietro vincitore della 21 km come è stata questa prestazione in cui hai lasciato il vuoto dietro di te complimenti volevo trovare e fare il mio tempo si batte nel mio tempo e ci sono riuscito le condizioni erano migliori dell'altranno perché è asciutto sicuramente più veloce fare la gara da solo comunque non è facile ho tirato dappertutto e il tempo è questo, sono contento complimenti sei minuti al passaggio del Sementa poi sei andata tua tutta grande di seguita come ti stavo per dire non potevo ritirarmi avevo bisogno di questo allenamento puntare il partito fortissimo ho detto se ne ha deve andare così e se mi sembra sia il calo in quest'ultima parte ognuno gioca le sue carte io ho deciso di giocare all'inizio e io alla fine e tu alla fine grandioso un grande Mirko Iotto grazie agli organizzatori percorso perfetto per il prossimo anno solo 5 gradi temperature in meno per favore con il clima non ci dico con nulla grazie! è comodi ecco 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 ecco